Borussia Dortmund Borussia Dortmund, ecco i convocati per la Champions League 2017-18. Outreus Il Borussia Dortmund di Bos, dopo le prime due vittorie in Bundesliga, aspetta solo la Champions League. . Biukondiere Zirki, Weidenfeller, Riemann. Zagadò, Subotic, Bartra, Tollian, Sokratis, Piszczek, Schmelzer, Tobrak, Durny. Sain, Raffael Guerrero, Rode, Daud, Kagawa, Castro, Weigol. Jarmolenko, Gio Kondiere Zidze, Isaac, Aubameyang, Filip, SCHU Kondiere Zirle. . . Lista B, Christian Pulisic, Jakob Brun Larsen, David Sauerland, Jani Serra, Till Schumacher, Eike Bansen Yianniklas Beste. .